Oggi è un grande giorno, sono tanto emozionato. Il RAV ci ha messo a disposizione un mezzo, che è la nostra decina. La stiamo conoscendo pian piano, grazie agli amici nostri. Ma ci chiede di fare uno sforzo, che forse ancora non abbiamo capito. E' una cosa semplice che ci chiede. Giocare come i bambini, dentro la decina. E' molto semplice, mettere in mezzo le nostre emozioni, il nostro cuore. E ci garantisce che con questo gioco semplice raggiungeremo il creatore. Io ci credo. E' a virio. Le caim. Le hoi.